La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha proposto all'unanimità Giovanni Bombardieri come procuratore capo di Reggio Calabria. Adesso la decisione dovrà essere ratificata dal plenum che dovrà confermare la scelta fatta nel 2018 quando aveva nominato lo stesso Bombardieri alla guida della procura regina. La delibera del CSM era stata annullata lo scorso maggio dal Consiglio di Stato che aveva accolto il ricorso e respinto prima d'altar del Lazio dell'ex procuratore capo di Lucera Domenico Angelo Raffaele Seccia, attuale procuratore generale in Cassazione. I giudici amministrativi avevano disposto un ulteriore giudizio comparativo tra i due magistrati dando ragione a Seccia il quale lamentava la decisione fatta all'epoca dal CSM. Decisione che per il Consiglio di Stato sarebbe stata inficiata dalla sottovalutazione delle proprie esperienze di funzioni direttive inquirenti. Non la pensa così la Quinta Commissione del CSM che dopo aver affidato per quattro anni la procura di Reggio Calabria a Bombardieri lo riconferma alla guida dell'ufficio giudiziario così come deciso nel 2018. Giovanni Bombardieri ha coordinato delicatissime inchieste contro l'Andrangheta. La proposta della Quinta Commissione del CSM verrà discussa nei prossimi giorni dal Plenum.